Alfeo vi ha raccontato la sua storia di come ha iniziato in questo piccolo paese nell'Italia del Nord. Chiaramente anch'io ho una storia e la mia storia è molto simile alla sua. Ma la vostra storia è la storia più importante. Ho visto Alfeo chiedervi quanti di voi stanno passando una stagione invernale nella vostra vita. Il primavera e l'estate sono molto vicine, ma stanno arrivando. E un giorno vorrei che voi saliate qua sul palco a raccontare la vostra storia. Perché voi avete una storia. Avete un luogo di nascita. Vi siete formati, avete avuto relazioni sentimentali. Tutti qui oggi hanno una storia. E come sarà il termine, la conclusione della vostra storia? Sarà una storia di cui andare orgogliosi? A volte, quando durante la storia vi sono dei periodi di inverno, periodi difficili, a volte si ha difficoltà e anche paura a raccontare la propria storia. Diciamo, lo possiamo chiamare come un prima della storia. Se hai un grande storia di dopo, allora la storia di dopo è buona. Diciamo, ecco, se il dopo della storia è eccezionale, allora diciamo anche il prima è un aspetto positivo. Quindi se adesso non avete denaro, magari se diventate ricchi il prossimo anno, allora va bene. Perché avete un prima e un dopo nella storia. Magari qualcuno di voi ritornerà l'anno prossimo, l'anno ancora dopo, e magari l'anno prossimo e l'anno ancora dopo, sarà qui sul palco a raccontare la propria storia. Quanti di voi vogliono venire qui sul palco l'anno prossimo a raccontare la propria storia di successo? Sì, 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 sì!